L'amata Mazzonia si mostra di fronte al mondo con tutto il suo splendore, il suo dramma, il suo mistero. Inizia così l'esortazione apostolica post-sinodale che rida Mazzonia, il testo in cui il Papa desidera esprimere le risonanze che il Sinodo ha provocato senza l'intenzione né di sostituire né di ripetere il documento finale che invita a leggere integralmente, auspicando che la Chiesa si lascia arricchire ed interpellare. Francesco condivide i suoi quattro sogni per l'Amazzonia, la lotta per i diritti dei più poveri, la difesa della ricchezza culturale, la custodia dell'irreversibile bellezza naturale, la capacità delle comunità cristiane di impegnarsi e di incarnarsi nel paese. L'esortazione indica poi i punti di partenza per una santità amazzonica che non devono copiare modelli da altri luoghi. Sottolinea che è possibile recepire in qualche modo un simbolo indigeno senza necessariamente qualificarlo come idolatrico. Altro passaggio significativo di Querida Mazzonia è l'inculturazione della liturgia. I sacramenti esorta devono essere accessibili soprattutto ai poveri. La Chiesa, sottolinea richiamando a Moris Letizia, non può trasformarsi in una dogana. Per il Papa va garantita una maggiore frequenza delle celebrazioni dell'Eucarestia, esortando i vescovi, specie latino-americani, a essere più generosi, orientando quanti mostrano una vocazione missionaria a scegliere l'Amazzonia e li invita a rivedere la formazione dei presbiteri. Francesco esorta poi a favorire il protagonismo dei laici nelle comunità e a dare nuovi spazi alle donne senza clericalizzazioni, ma accogliendo invece il loro contributo che prolunga la forza e la tenerezza di Maria. Il quarto capitolo termina con il tema della convivenza ecumenica ed interreligiosa. Il Papa invita i credenti a trovare spazio per dialogare e agire insieme per il bene comune. Francesco conclude con una preghiera alla madre dell'Amazzonia. Madre guarda i poveri dell'Amazzonia, recita un passo della sua orazione, perché la loro casa viene distrutta per interessi meschini. Tocca la sensibilità dei potenti perché se anche sentiamo che è già tardi, tu ci chiami a salvare ciò che ancora vive.